Tecno for Future è il nuovo laboratorio di automazione qui al Mattei, il polo scolastico superiore, che conta un istituto tecnico-tecnologico con vari indirizzi. Abbiamo qui dei futuri periti che ci illustrano questo laboratorio donato da Confindustria, Forpin e una serie di aziende. Che tipo di macchine vi hanno donato? In questo momento dietro di noi abbiamo una macchina che funziona come se fosse una linea di smistamento. Abbiamo un nastro di posizionamento, un ramo di traslazione e un altro nastro di smistamento. L'altra macchina è una macchina per simulare la miscelazione di fluidi. Ha tre funzioni principali, riempimento del fluido, miscelazione del fluido e scarico del fluido finale. Una bella soddisfazione questo laboratorio. Certamente e a maggior ragione quest'anno perché, come purtroppo tutti sanno, l'anno è stato caratterizzato da molte difficoltà dovute alla pandemia e quindi ci sono stati molti momenti di preoccupazione. Chiudere quasi l'anno scolastico, perché ormai siamo agli sgoccioli, con invece un bel evento in cui finalmente ritroviamo anche persone rappresentative del nostro territorio, aziende del nostro territorio, all'interno della nostra scuola, attrezzature nuove. Sono veramente una ventata di ottimismo per ricominciare nel modo migliore il prossimo anno scolastico. L'idea di questo laboratorio è nata sotto la sua presidenza, perché? È nata ormai quasi due anni fa come idea, partita da uno spunto di un nostro associato, che è Mario Ferrari della Unifer, che aveva la percezione che i ragazzi delle scuole superiori, tecniche soprattutto, avessero delle ottime basi teoriche, ma non riuscissero spesso ad applicare quella che è poi l'inserimento all'interno del mondo del lavoro. L'idea di un laboratorio di questo genere è proprio questo scopo, quello di riuscire a trasmettere quelle che sono le informazioni teoriche in campo pratico e poterlo toccare con mano. Confindustria non è il primo laboratorio e non sarà l'ultimo che finanzia. Sì, noi siamo partiti dal laboratorio di Piacenza, poi grazie all'input dato da Alberto Rota ed alcuni nostri associati abbiamo realizzato questo a Fiorenzuola in progetto il potenziamento del laboratorio anche del polo di Castel San Giovanni.